Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti all'ultimo episodio della Road to Dark Matter Raga, purtroppo lo scenario della PS4 mi ha di nuovo per l'ennesima volta trollato Praticamente si è salvata, meno male la parte più importante, la Dark Matter Però tutta la parte iniziale non si è salvata Quindi sto vedendo come prendermi l'Elgato, la Vermide Ora vediamo, comunque c'è qualcosa per registrare il gameplay Ragazzi, vi lascio il video, lasciate un like se vi va E nulla, bello Deci a voi sei con un ultimo video da Road to Dark Matter Rischiare, ok la frattura è qui quindi ottimo Non mi uccidete, madonna raga conoscete Dieci file ragazzi, sono tantissimi Perfetto così, vabbè Prendiamo un altro file qui Ok ragazzi, possiamo andare col Bright Anche se ci mancano i pare, due, due uccisioni Ok ce n'è uno qui Mori Oh cazzo, ragazzi, stavo a morire perché il Bright Ragazzi, probabilmente anche Raps 20 punti Ok, ragazzi, ci siamo Ragazzi, siamo a cavallo Manca l'ultima kill per la Dark Matter E anche per i Raps Sono quasi emozionato Dieci ragazzi, dieci punti per i Raps Vediamo se il Bright ci fa questa uccisione Oh cazzo ragazzi, è questo qui Cazzo ragazzi Non so se rischiare raga Questo file ci darebbe i Raps Ok Ok ragazzi, sanguinario Dovrebbe essere Dark Matter Dovrebbe essere Dark Matter Ragazzi, mi metti che diamante Dovrebbe essere Dark Matter Sono senza armi Mi metti che diamante per i pistole Che cazzo c'hanno questi Con lanciarazzi ragazzi Camaleonte Non so, non è uscita la Dark Matter Vediamo un po' Vediamo un po' Non l'ho oppure non l'ho vista raga Probabilmente uscita non l'ho vista Non lo so Comunque qui sono con il Sono con il lanciarazzi Cioè, da ignoranza proprio Vediamo un po' Sto facendo 2310 Neanche tantissimo Deve proprio i Raps Stanno facendo il loro dovere Raga, mi serve una dannata Ah, guardate quello No, che cazzo ho fatto Raga, fail assurdi Raga, io non ho visto Se c'era la Dark Matter Vi giuro Raga, ora mi sono accorto Che giustamente lo share Non sta registrando Quindi Eccoci qui A questo nuovo video ragazzi Della Praticamente della Dark Matter Sparemo a caso noi Questo l'abbiamo tornato In una maniera Chiaramente schifosa Anche questo La nostra pistoletta Raga Ok, ma noi possiamo mettere Anche la BMP Il BMP Anzi, non la BMP Raga Che dirvi Oh cazzo Quanti c'è ne sono lì Tutti a camperà Raga In questo caso Oh cazzo C'è qualcuno qui Ok, mettiamoci un bel HBK30 Mi piace un sacco Che si dice Allora ci sono un po' Di personcine Ok, una è fatta Mi stava per tornare Raga Questo mi sta cercando Raga Oh cazzo Ma dov'era Nell'angolo Dio santo Guarda Lo fermo Ad aspettare Mamma mia Devo un attimo Levare il Il Cavolo Si chiama Ok Sparemo con l'R2 Raga Io non l'ho visto Se La Dark Matter è uscita C'è il cosino Lì è uscito Meno Non ne sono proprio sicuro Siamo a 73 Quindi abbiamo quasi Finito Raga Facciamoci le ultime Uccisioni Uno è fatto Ok Dentro qui Raga Ah Col pompa Ma questi come giocano Raga Vabbè No Vabbè Avevo premuto L1 Per minare Avete visto E poi dopo Mi sono accorto Che non ne va più Con l'L1 Allora C'è uno con l'uscita Oh Buono Ucciso Ottimo Spavoro Ho pure ucciso C'è uno qui Che vuole comprare Coglione Ah vabbè Va bene così ragazzi E' finito il tempo Credo perché 74 Non so Non so Non so Andiamo a vedere subito Se ci troviamo Questa Black Black Matter Dark Matter Ragazzi Ed eccole qui ragazzi Eccola qui La Dark Matter La materia oscura Incredibile ragazzi Dopo mesi Di gioco Anche perché Vabbè L'avevo trascurato Per un po' Questo gioco Però ragazzi Mi è sempre piaciuto Tantissimo Purtroppo a voi Non vi piace Nel senso che Giustamente seguite più GTA E ne porterei Guardate che bellezza Ragazzi Finalmente La Dark Matter Anche per me Stupendo ragazzi Veramente stupendo C'è Assurdo Ragazzi Aspetta Usciamo un attimo Dalla lobby Sì Vediamo un po' Anche se ovviamente Avete già visto Diecimila volte Questa Dark Matter Da altri youtuber Però ragazzi La volevo condividere con voi Lagga pure un po' Tra l'altro Vediamo un po' L'FFR Devo fare La Dark Matter Mi manca pochissimo Eccola qui Ottimo ragazzi Mi fa veramente piacere Cercherò Se volete Fatemi sapere nei commenti Lasciate un like Arriviamo almeno Almeno A mille like ragazzi Per la Dark Matter Fatemi sapere un po' Nei commenti Se vi piace Lasciate nei commenti Se volete Almeno 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 Ragazzi Deci Un commentario Se Poi Goste Deci 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 Guardate Ragazzi Che bellezza Questa Qua Col N44 C'è Assurdo Assurdo Ragazzi Ora Magari Andiamo Un attimino Vedere In sessione Com'è Però Ovviamente Già La conoscete Ragazzi Forse Sul VMP Non va Tanto Non rende Tanto Magari Sul KN44 Bellissimo Ragazzi Andiamoci a Viglia A fare una Partitina Ci vediamo Subito In partita Ok Ok Eccoci Qui Ragazzi Già Iniziata Skyjacket Giusto Ragazzi Per farvi Dire Un po Com'è La Dark Matter Ragazzi Questo È Sul KN44 Silenziato Buggato Non so Dove Cazzo Sino Io Ma Stavo Quasi Per Tornare Por Keva Mayala Quindi Ragazzi Questa È A me Piace Ragazzi Vorrei Portarvi Anche Un Nuclear Perché Ragazzi Se volete Vi ripeto Vi posso portare Altri video Cercherò Di portarvi Un Nuclear Fatemi Sapere Un po Che Ne Pensate Che Cazzo Era Il Compagno Che Stava Di Vabbè Ragazzi Questo È Tutto C'è Qualcuno Lì Sopra L'avevo Visto C'è Qualcuno Qui Non Cazzo Siete Ragazzoli Ok Lo troviamo Sicuramente Di Qua Che ci aspetta Ok Uno Questo è un cadavere Ranicchiato Ragazzi Dove Cazzo Sei Ok Ragazzi Ma perché Non entro nei colpi Va bene Così Da Va bene Così Ragazzi Cerco di portarvi Un attimo Una bella Stric Ottimo Questo Addirittura Hater Schierato Ragazzi C'è qualcuno Qui sotto Dai Che Già Si è morto A meno Che C'è Ah C'era Già Questo Porca Vabbè Ragazzi Stiamo Sfondando Pure Qui Il culo Nave Raps Hater C'è Veramente Assurdo Continuano i colpi Ad entrare Madonna mia Che strage Ok Raga Quell'hater E' veramente Super Semplice Sapete Vincere Sparando di qua Perché tutti Sono di là A pushare Vediamo un po' Se c'ho ragione Infatti Uno No 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 Mi ciro Madonna raga Che cazzo Succede Raga Non so Se sto Laggando io Ma avete visto Quello che è successo Io non lo so Ok Mettiamo i raps Raps non disponibili Premo write Non disponibile Raga Non so che dirvi Non so neanche come spiegare Quello che è successo Prima Sinceramente Vabbè Ok Sono spawnati Guardi Tipo Prendere Fare una Specie di Vorremmo fare Un nuclear Così Al volo Con la dark matter Potremmo Che una cosa del genere Raga E' possibile Fare una cosa del genere All right Non disponibile Raps Non disponibile Vabbè Raga Mi sa che è impossibile Andiamoci a prendere altri 4 file Overdrive disponibile Lo usiamo subito Per raggiungere gli avversari Raga Ok Prendiamo altri file Ragazzoni Abbiamo doppiato il write Ok Meno male Così Ah raga Uno l'abbiamo preso Porca Eva Raga Abbiamo spiegato uno Vabbè Sti cazzi Non so quanto sono di fila Ma credo 12-13 Non di più Vabbè Questo è tutto raga Ci vediamo ovviamente A un prossimo video Fatemi sapere nei commenti Se vi è piaciuto o meno Falou Nice